Ciao Anima Infinita, in questo video vorrei parlarti del concetto di protezione psichica o protezione energetica. Vorrei invitarti alla protezione in quanto questa ti consentirà di creare uno spazio sacro, armonico e protetto non solo nel tuo campo energetico ma anche nel luogo in cui vivi o in cui lavori o nella tua auto. Purificare l'energia e creare uno scudo di protezione ti consentirà di evitare di assorbire i pesi energetici dalle altre persone, dagli ambienti o che tu stesso o tu stesso crei dentro di te attraverso il caos, attraverso i pensieri negativi o le emozioni negative che ti porti dentro. Ricordati che per il 90% i pensieri non sono nemmeno i tuoi. Un pensiero negativo ripetuto più volte e con un'intensità emotiva ed energetica ti fa attirare le cosiddette forme pensiero che ingigantiscono il tuo malessere, la tua negatività. E questo cosa fa? Questo ti fa stare male a te e fa stare male le persone intorno a te, in particolar modo le persone empatiche. Se invece tu sei una persona empatica e sei anche una persona abbastanza positiva ma tendi ad assorbire i pesi energetici degli altri, ebbene, anima infinita, la protezione psichica è fondamentale affinché tu possa vivere una vita nel tuo pieno potere, radicata, centratta in equilibrio e con pensieri potenzianti di amore. Ma come pregare? Come si fa? La preghiera che io consiglio è quella rivolta all'Arcangelo Michele. Lo vedi qua dietro di me? L'Arcangelo Michele non è una figura astratta, non è un essere lontano da noi, è un essere molto presente sul piano della terra, appartiene a dimensioni molto elevate e sta a noi innalzarci ed elevarci per poter attingere alla sua frequenza e farci aiutare sul piano della terra creando uno scudo di protezione. Per questo è importante avere delle intenzioni pure di amore e chiedere aiuto, guida e assistenza all'Arcangelo Michele. Vorrei naturalmente invitarti a guardare il mio sito internet, va bene? Perché queste preghiere che io ho messo a disposizione sono completamente gratuite. Quindi puoi guardare nel mio sito internet connessioniangeliche.com, risorse gratuite, preghiera di protezione psichica giornaliera, preghiera di protezione della casa e degli ambienti, processo di liberazione, ma ne parleremo in un altro video. Io spero che questo video ti sia di aiuto, chiedi all'Arcangelo Michele, guida e assistenza, chiedi aiuto e la tua vita cambierà in meglio. Un abbraccio di Lucia a presto, ciao anima meravigliosa!